Io fondamentalmente sono favorevole all'uscita dell'Italia dall'Euro, ma ho il timore che l'uscita unilaterale dell'Italia dall'Euro possa generare una situazione economica peggiore di quella attuale. Quindi poiché in questo momento ci sono dei professori d'economia vorrei essere rassicurato che non corriamo questo pericolo. Questa è la domanda tipo, vediamo la risposta tipo. Allora la ringrazio. Io ho lavorato per tutta la vita in borsa e vi posso assicurare che c'era della gente rispettabilissima, professionisti ottimi, quindi in perfetta buona fede, che quando un titolo da dieci era andato a uno, diceva il peggio potrebbe ancora venire. O va a meno otto, oppure non era possibile. Quindi in realtà è abbastanza difficile, cioè buona parte della distruzione che noi abbiamo visto e che noi abbiamo patito, tenuto presente guardando in controluce l'immagine dell'Italia rispetto a come sta progredendo invece il resto del mondo. Perché non guardiamo solo il valore assoluto del nostro peggioramento, guardiamo la crescita che non abbiamo avuto, guardiamo quello che ci hanno rubato rispetto alla crescita degli altri. Ora, ogni tanto guardiamo i gran premi, vediamo i gran premi dall'altra parte, queste cose avveniristiche, cose di questo tipo, diciamo, cioè il mondo è cresciuto, noi non solo siamo stati fermi ma siamo tornati indietro, quindi la differenza di quello che ci è stato rubato, del danno che abbiamo subito, è molto più grande rispetto alla semplice declino che noi abbiamo avuto. Io posso dire una cosa, posso dire che quasi tutti gli effetti particolarmente dannosi che ci prospettano succederanno dopo l'uscita dell'euro, noi li abbiamo già avuti. Se noi sentiamo normalmente il discorso dell'uscita tipico, dei danni dell'uscita dall'euro, dicono i nostri risparmisi di mezzeranno, dicono la benzina aumenterà, ma voi avete mai pagato la benzina a 4.000 lire? Dicono, come si chiama, il valore delle case scenderà? Ecco, poi ci sono delle cose di tattica, vale a dire, dicono i mutui saliranno. Questa è una cosa dove io mi sono sempre incazzato come una bestia, perché quando c'era un giorno, perché non bisognava disturbare il manovratore, quando c'era un giorno in cui viene preso Monti per la collottola e spostato, allora c'è stato quel giorno lì che lo spread ha fatto da 300 a 302, ecco, i mutui costeranno di più, ma brutti terroristi, ma il mutuo o è a tasso fisso, e allora a te non te ne frega niente, o se è a tasso variabile è indicizzato all'Euribor, non allo spread, vale a dire alla media delle transazioni delle banche europee, ma soprattutto se il terrore è che questa moneta poi non valga una fava, essendo che il mutuo deve essere restituito nella moneta corrente, significa che tu dovrai restituire una fava. E allora quindi, dal punto di vista, se veramente fosse così, che non è così comunque, cioè quello che è normalmente l'argomento tipico, questa sarà carta straccia, benissimo, allora io sono debitore, no? Il debitore cosa faccio? Devo restituire carta straccia? È una brutta prospettiva? Penso di no. Quindi in generale stiamo parlando di tutta una serie di luoghi comuni orribili che devono essere smentiti, ci stiamo lavorando sopra, sto scrivendo un piccolo puscolo che grazie alla Lega vi verrà poi dopo facilmente reperibile, sperabilmente per fine anno, dove tutte le domande possibili relativi al mio risparmio, alla mia casa, al mio fondo di investimento, cosa succede, al mio mutuo, e seminali saranno spiegate. E quindi spero poi dopo che tutte le questioni troveranno risposte.